siamo a santo stefano al mare queste immagini sono offerte dall'albergo luciola www.albergolucciola.com di santo stefano al mare telefono 0184 48 42 36 dopo la mareggiata e dopo la pioggia di questa notte sta ritornando il sereno il mare è ancora molto vivo e molto agitato queste immagini sono di santo stefano vediamo il campanile della chiesa sulla destra la piazza baden powell con la torre ennagonale sede del comune di santo stefano al mare se ci rivolgiamo a bonete vediamo come sana ci saremo con la chiesa di santo cuore arma di taggia arriva ligure e in primo piano il porticiolo dei pescatori qua di santo stefano al mare guarda guarda indonesi guarda guarda invito Grazie a tutti.